Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non voglio portare sul canale semplicemente il timelapse del disegno, ma un qualcosa di nuovo, quindi diciamo una sorta di tutorial che poi si unirà alla diretta che farò fra poco su Instagram. L'idea è quella di disegnare su una pagina di un libro. Ormai questo tipo di disegno è diventato molto popolare su Instagram e anche su altri social. C'è gente che disegna direttamente sui libri, io invece mi è capitato di avere delle pagine strappate di alcuni libri quando ero andato a fare alternanza scuola-lavoro e abbiamo realizzato dei progetti con i libri e poi si hanno strappato delle pagine, quindi andrò a disegnare una mano sopra questa pagina. Diciamo che sarebbe stato bello creare un disegno attinente a quello che c'è scritto sulla pagina del libro. Questo, se non sbaglio, è un racconto, un romanzo, non so che cosa si è ripreciso. Comunque ho fatto la foto della mia mano sopra il foglio, quindi l'impostazione sarà questa. E comunque poi ho sempre la mia mano per copiarla dal vero. Direi di procedere inizialmente con uno schizzo veloce della mano per la costruzione e poi di andare a fare i dettagli. Finché poi avvierò la diretta su Instagram e quindi farò dei tagli e monterò in questo video parti anche della diretta. Vi ricordo che comunque Alessio Giffi, rettino basso, poi magari lo scrivo anche nel video, è il mio Instagram. Ogni tanto faccio delle dirette, quindi se volete vedermi disegnare in diretta, seguitemi e vi arriverà una notifica. Stavo dicendo che disegnare sulla pagina di un libro è molto difficile perché gli occhi mi si intrippano, cioè non riesco a prendere bene le proporzioni perché ovviamente il foglio non è tutto bianco ma è scritto e quindi non vedo dove vado a disegnare e non è facile. Quindi un consiglio sarebbe quello di disegnare la mano, quello che è, su un foglio bianco e poi ricalcarlo, quindi riportarlo sul foglio. Però a me mi piace complicarmi la vita, mi piacciono le cose difficili, quindi lo farò direttamente su questo foglio. E poi non so se farla a mo' di schizzo, quindi bianco e nero, o realistica, a colori, come una che avevo fatto, ora passerà la foto qui. E molto probabilmente la farò a colori perché ho visto in foto rende molto bene l'effetto 3D e a me mi piace disegnare queste cose così particolari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.